Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In A15, possibili disagi per lavori ad Aulla, in direzione Parma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, un chilometro di coda per lavori tra Empoli e Ginestra-Fiorentina. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra Colle di Valdelsa Nord e Monteriggioni, in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!